Oggi le lavoratrici e i lavoratori QE manifestano a difesa del loro diritto al lavoro. Non è possibile perché per comportamenti scorretti dell'azienda centinaia di lavoratori rischiano il posto di lavoro. Il governo su questo deve intervenire, deve dare certezza. Quella di oggi è una manifestazione che interviene dalla capacità del governo di trovare soluzioni. Noi siamo qui come Cingelli perché vogliamo essere accanto con le lavoratrici e i lavoratori. Anche noi, come loro, siamo qui.